Il nostro tempo è scaduto, io ringrazio Alessandro Macchi e ringraziando lui ovviamente ringrazio tutti i soci dell'associazione Qualcosa per il Mondo. Io volevo ringraziare Fausto Bossi che ha permesso che venga. Prima o poi Fausto Bossi lo devo mettere su quella sedia perché faccio un brevissimo inciso. La realtà di Fagnano Lona e lo sottolineo quando io poi ospiti in trasmissione Associazione Fagnano Lona, l'attività associativa è sviluppatissima. Io, la nostra testata, la nostra redazione, per i contatti con tutte queste associazioni della Valle Olona ci appoggiamo a Fausto Bossi. E allora io ho un annetto che dico a Fausto, qui rinnovo ovviamente l'invito pubblicamente, devi venire ad una puntata e in questa puntata mi devi raccontare tutto il panorama dell'associazionismo in cui mi pare che lui... Ce ne vorranno anche due o tre di puntata. Ce ne vorranno due o tre, ok, perfetto. Per cui è ufficiale, il signor Fausto Bossi di Fagnano Lona è invitato a una delle prossime puntate del nostro programma, ma non una delle prossime, quando dici da un anno a questa parte se si venga, a una delle prossime due puntate del nostro programma. Altrimenti, in questa trasmissione, io darò il suo numero in cellulare e inviterò tutti a chiamarlo a tutte le ore della notte per qualsiasi problema sia legato al mondo del volontariato. Allora, conto e super, questa settimana si ferma qui, ci vediamo tra sette giorni e o tra sette o quattordici giorni avremo ospite, per quanto arrivare alla Valle Olona, il mondo del volontariato della Valle Olona, Fausto Bossi. E allora non ciò, ufficiale, ci vediamo tra sette giorni. Grazie a tutti.